Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle nuove TSL Smart, un nuovo tipo di ciaspola, proprio completamente diverso alle classiche ciaspole tradizionali che siamo abituati a vedere. Adesso insieme ne vediamo infatti i pregi e i difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo subito cercando di capire per che scopo sono state pensate queste ciaspole, perché poi da lì andremo a capire anche le varie feature che hanno. Queste ciaspole sono state pensate per tutti quegli appassionati che sono nati negli ultimi anni, ovvero quelle persone che vanno in montagna ma non sono esperte, non fanno percorsi difficili, persone che utilizzano le ciaspole per andare a farsi una classica camminata fino a un rifugio, magari anche con poco dislivello, ma che utilizzano le ciaspole più per avere una migliore adderenza e una migliore stabilità sulla neve rispetto a avere quella che è la classica funzione di una ciaspola, ovvero la sua galleggiabilità. Infatti su queste TSL Smart non troviamo nessun tipo di alzatacco, non troviamo nessun tipo di basculazione. Queste ciaspole si attaccano al piede con un sistema BOA che gli permette di essere molto semplice da utilizzare sia da mettere sia da togliere e una volta messa il piede praticamente girando l'andamento del nostro piede, della nostra falcata. Non abbiamo la classica basculazione delle ciaspole. Come dicevo poi queste ciaspole vanno a soddisfare quello che è il bisogno di avere un po' di stabilità ai grip. Il grip lo soddisfano grazie alla parte inferiore che trova una semplice ramponatura che comunque gli dà un ottimo grip su neve anche dura, un po' di ghiaccio eccetera. Diciamo che da questo punto di vista è veramente molto simile a un ramponcino. Troviamo un telaio molto più piccolo rispetto a una ciaspola tradizionale, un telaio che da punto di vista della galleggiabilità naturalmente è pessimo perché non è un telaio grosso che aumenta tanto la superficie di contatto con la neve, ma ci tengo a precisare non è lo scopo di questa ciaspola garantirci galleggiabilità sulla neve. Questa telaio invece fa sì che quando andiamo a camminare su neve anche battuta non ci scivoli il piede di lato, indietro, come molte volte capita quando magari andiamo con un semplice scarponcino sulla neve. Dunque queste ciaspole sono veramente pensate per andare su dei percorsi molto semplici, battuti, su dei percorsi dove abbiamo bisogno più di stabilità e di grip rispetto a galleggiabilità. Già chiamarle ciaspole secondo me è un po' un termine che non le si addice perché queste ciaspole smart si avvicinano molto di più a quelle che sono dei ramponcini evoluti rispetto a una classica struttura di una ciaspola. Come dicevo poi queste ciaspole hanno la chiusura boa nella parte superiore e sono anche caratterizzate da tre taglie S, M, L, queste sono divise anche in tre colori S rosa, M blu, L e questo verde. Questo in base soprattutto alla grandezza del nostro scarpone. In questo caso non si prende tanto in considerazione il peso perché appunto la galleggiabilità non è la sua feature principale. E sono delle ciaspole poi che dal punto di vista dei materiali, beh, comunque sono sempre realizzate da TSL, sono sempre ciaspole 100% riparabili, quindi comunque si parla di ciaspole di un'ottima qualità, ciaspole che possono sicuramente andare avanti tanto nel tempo. Sono ciaspole, come abbiamo detto, poi anche semplici da utilizzare perché pensate appunto per una persona principiante hanno un sistema boa che permette un semplicissimo aggancio e sgancio, quindi anche da questo punto di vista veramente fatte bene. Parlando infine della parte anteriore, ha comunque un angolo d'attacco che non è proprio piatto, ha un angolo d'attacco ridotto rispetto ad altre ciaspole, ma ci sta perché comunque non dobbiamo andare su neve fresca, ma comunque ci garantisce un'ottima camminabilità. Arrivando al prezzo e alle conclusioni, queste ciaspole le si trovano online sui 140€ all'incirca. Sicuramente non sono ciaspole da prendere in considerazione se state cercando una ciaspole a tutto fare. Queste ciaspole, come abbiamo visto, sono dei modelli specifici per chi vuole andare a fare dei sentieri battuti, semplici, chi sta cercando più stabilità e grip rispetto alla galleggiabilità. Come dicevo, se state cercando una ciaspole a tutto fare, ce ne sono tantissimi TSL che possono andare bene, non sarà questo il modello più adatto. Queste appunto sono pensate molto per principianti che utilizzano le ciaspole, per andare su dei sentieri semplici dove hanno bisogno di stabilità. Queste poi, secondo me, spopoleranno tra i noleggi, perché è veramente la loro facilità di utilizzo. Visto anche dove tante persone vanno a utilizzare le ciaspole, queste veramente le troveremo tanto nei prossimi anni in noleggi, nei posti dove ci prestano le ciaspole per andare a fare la tua escursione. E detto ciò, ragazzi, una speranza sia stata l'esoperenza di Sostivo anche per questa recensione, per ragazzo la guardate, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!